adri adri cazzo ci fai attaccato il muro l'ho visto in un porno cosa vuoi devi smetterla di drogarti la sera ma da quando ti importa di me no adri non hai capito la droga è finita allora dobbiamo andare a prenderne dell'altra andiamo 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 24 kg di hashish ok 36 kg di marijuana ok 4 decagrammi di meth e chu già drogato 10 litri di acido gamma idrossimutirrico ma che cazzo ok andiamo sì cazzo perché avete delle piantagioni qua sotto e non me l'avete mai detto te lo chiedi anche no sinceramente non capisco e questo è uno dei motivi quello sì che è un bel buco ok buttiamo giù questo zaino e vediamo se ci sono degli intrusi che vogliono rubarmi la droga ma basterà uno zaino per fermarli in ora sono sempre morti sul colpo vado a prendere il cadavere adri ma che stai facendo inizi senza di me ho sniffato un po di indole basso 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 adri perché non ci stiamo fermando la droga è qua le piantagioni buone sono avanti basso non mi serve la fottuta telecronica basso è giù la vedo solo io con la roba volante io in realtà ne sto vedendo sei ciao 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 ciao